Signori, la beffa è dietro l'angolo. Ad Avelino non esistono strutture capaci di poter ospitare il processo ex isochimica, un processo che deve far luce sulle morti tra gli ex operai e sulla devastazione ambientale che la fabbrica dei veleni ha portato a Borgoferrovia e dintorni. In primis non c'è il tribunale capace di accogliere questo processo. Il problema per chi avesse perso le puntate precedenti fu sollevato in aula dalla procuratore Cantelmo che definì vergognose le condizioni con cui si operava di fronte ai numeri del processo 253 e soltanto le parti civili. Il collegio giudicante ha ripreso e confermato. Il presidente del tribunale è pronto a spostare a Napoli nell'aula bunker del carcere di Poggio Reale il processo. Ora l'ex isochimica è una vicenda lunga 30 anni nella quale Avelino vorrebbe in qualche modo rispecchiarsi, riconoscersi e anche riscattarsi. Fu un procuratore della Repubblica di Firenze a dare il via in qualche modo all'inchiesta. C'è bisogno sempre che qualcuno venga da fuori e il finale potrebbe essere che la sentenza arriverà fuori da questo territorio. Quasi una maledizione. Ma perché non esistono strutture adeguate? Perché il tribunale è piccolo? Si parla di una cittadella giudiziaria da anni ma il problema resta sempre lì. Il comune di Avelino ad un tavolo con il prefetto si è impegnato a delle soluzioni alternative. Se ne è discusso quali sono, quali potrebbero essere. Il centro sociale di Avelino è troppo piccolo. Il palazzetto dello sport è impraticabile. Ci sono le gare della Scandone. Il teatro Carlo Gesualdo, se non decollasse, ma speriamo che resti un simbolo della cultura. E c'è bisogno di un simbolo di giustizia e legalità del tribunale appunto. Per i familiari delle vittime, per gli ex operai si sta consumando l'ennesima beffa. Non possono avere giustizia nella loro città. Dovranno trasferirsi con altri costi in quel di Napoli. Dopo che la città, in alcuni casi in questi 30 anni, gli ha voltato le spalle. Ma ci sono soluzioni possibili? Sì. La Banca Popolare dell'Emilia Romagna, l'ex banca della Campania e dell'Irpini a Collina Liguarini, ha un auditorium che può contenere 600 persone. Certo, ci sarebbe un tema, quello dei costi, da valutare per questo eventuale trasloco e per sistemare la logistica. Ma questa ipotesi non è stata proprio presa in considerazione nonostante la disponibilità della banca. Perché? Ci domandiamo. Punto interrogativo. Allora se non c'è un tribunale che è in grado di dare giustizia, chiudiamolo il tribunale di Avellino. È una provocazione naturalmente, ma è anche un appello in estremis a tentare di salvare il salvabile. Il 28, l'ultima udienza di Avellino, poi chissà, saremo tutti costretti a trasferirci a Napoli. Abbiamo chiesto come TV di poter riprendere questo processo, ovunque questo sia. Anche su questo nessuna risposta. A partire dalla sede del Palazzo di Giustizia, il tribunale deve dare giustizia. È questo il punto.